Si inaugura oggi qui a Venezia Mestre il nuovo monomarca di Comprex Trevisan. Non posso non manifestare grandissima soddisfazione per questa nuova partnership tra la Comprex e la famiglia Trevisan, forse uno dei rivenditori in assoluto di riferimento nell'offerta di arredo design in cucina dell'entroterra veneziana. Noi siamo un'azienda, una struttura composta da tre negozi che nasce con il primo negozio, ovviamente come offerta generica, nel lontano 1949. Perciò abbiamo più di 60 anni di storia e circa 5-6 anni fa abbiamo deciso un po' insieme di intraprendere la strada del monomarca. Non serve a nulla in un negozio avere più marchi e dare più offerta, perché questo si tende a fare per la paura di perdere opportunità. La scelta di Comprex è arrivata circa un anno fa. Cercavamo un'azienda che fosse un attimino più dinamica, che avesse uno sprint in più, che avesse un'offerta variegata di prodotti. Quando scegliamo un'azienda, quando scegliamo di inserire un marchio nel nostro negozio, vogliamo valutare prima le persone che lavorano in questa azienda. La scelta di Comprex è stata per questo, perché abbiamo visto, ci siamo resi conto del prodotto, dell'offerta che hanno, ma prima di tutto delle persone che ci sono all'interno. E siamo sempre molto attenti all'azienda e al prodotto che andiamo a scegliere in base a dove dobbiamo operare, ovviamente. Ci troviamo all'interno del nuovo monomarca Comprex di Venezia Mestre, che avviene dopo le aperture di Milano, Torino, Madrid e Parigi. In questo showroom abbiamo cercato di esprimere al massimo le potenzialità del prodotto Comprex, propriamente nelle tre aree di gusto che sempre contraddistinguono il nostro progetto, l'area class, l'area vogue e l'area young. Le cucine presenti in questo showroom sono frutto della progettazione di Luca Dalcin, il designer che ha anche curato la presentazione dei prodotti e che ha cercato di esprimere con il massimo equilibrio possibile un'offerta estremamente ampia, che possa così arrivare a un pubblico eterogeneo. Abbiamo ricercato con l'aiuto dell'architetto Simona Rossi, che ci tengo a nominare perché è una persona splendida e bravissima nel suo lavoro e pensiamo di aver raggiunto un risultato molto soddisfacente. Il nostro negozio si trova su una delle vie principali di Mestre, Venezia. Abbiamo scelto quella via che è il Corso del Popolo, una scelta mirata di uno spazio molto molto visibile, su una zona molto trafficata, una zona molto di passaggio anche pedonale, e perciò aveva tutti i presupposti, si sperava e fortunatamente è stato così, che dovesse avere anche un certo successo.